buongiorno e bentornati in autosmile oggi vi presentiamo questa nuova selezione tra le nostre vetture usate che è la regina delle SUV è la kia sportage e adesso andremo a scoprirla questa kia sportage è un allestimento business class con due ruote motrici ed è un 1.6 turbodiesel da 115 cavalli sono 85 kilowatt guardate com'è tenuta noi cerchiamo sempre dalle immagini dalle fotografie dai video di trasmettervi la qualità delle vetture che selezioniamo per voi a 110 mila chilometri per esattezza sono 110 mila e 700 quasi è del maggio 2019 ed è unico proprietario ancora la garanzia ufficiale ovviamente di kia e anche coadiuvata da questa garanzia ufficiale fa sì che la reputiamo veramente un'ottima occasione sempre tenendo presente i chilometri l'anno e le condizioni molto belli questi cerchi in lega diamantati vetri oscurati posteriori con cornice cromata sui vetri antenna pinna sul tetto e barre longitudinali per i vostri carichi trasporti questa in fondo una vettura si presta molto ai viaggi in famiglia o perché no strizza anche il single che vogliono veramente divertirsi e adesso entriamo a scoprire l'interno di questa vettura vedete che è dotata del della protezione in gomma del carico sedili sdoppiati i 5 poggiatesta ed è dotata anche del ruotino di scorto ovviamente ruota no perché non ci starebbe visto che sono dimensioni interessanti pensate che la vettura in alcune parti ancora il cellofan protettivo vedete questo qua sulla barra in alluminio della tendina è ancora da togliere il cellofan poi lo faremo prima di consegnarvela la retrocamera per dei parcheggi perfetti ovviamente aiutata dai sensori di parcheggio posteriori gli interni iniziamo dai sedili posteriori tra le persone in statura medio alta ovviamente stanno comodi su una vettura del genere bracciolo centrale anteriore e posteriore guardate quanto spazio per le gambe airbag lato passeggero disattivabile per poter mettere sul sedile passeggero il vostro piccolo la vostra piccola guardate com'è tenuta ovvio non potrebbe essere tenuta in altre condizioni essendo così recenti nel 2019 però ve lo mostriamo ugualmente questo 1.6 turbodiesel da 115 cavalli è anche aiutato da un ottimo cambio a serra ma rapporti ovviamente come accade sempre per le nostre vetture è completa di chiave doppia chiave e tutti i manuali uso e manutenzione ufficiali adesso andiamo dal lato guida dove ci sono i comandi dei vetri elettrici anteriori e posteriori gli specchietti che si chiudono sia automaticamente o altrimenti basta schiacciare qua non rimangono sempre aperti sono elettrici e chiusura centralizzata i sedili sono regolabili in altezza e quello di guida anche la regolazione lombare elettrica splendida ci piace molto questa vettura chilometri pesatezza 110.691 strumentazione analogico digitale come ormai di moda per vetture di questo genere vedete il volante in pelle ovviamente airbag frontale laterale a tendina poi con tutti i comandi della voce bluetooth della radio che vi spiegheremo a momento computer di bordo cruise control i fari sono all'attivazione automatica basta girare questo e anche i teggi cristalli sono a comando automatico sempre per gli automatismi anche lo specchietto interno è fotocromatico perciò si oscura automaticamente a seconda dell'intensità della luce proiettata dalle vetture che sopraggiungono posteriormente climatizzatore automatico bizzona perciò sinistra e destra separati ognuno sceglie quel che vuole adesso andiamo a girare il quadro qui c'è tutta la strumentazione ovviamente la vettura è dotata anche dell'apple car play e android auto questo comando è l'ausilio delle discese e per bloccare i sensori parcheggio tornando a noi apple car play android auto significa che il veicolo è totalmente gestibile come dallo smartphone vedete perciò vi replicherà anche il navigatore satellitare adesso qui ovviamente dice perché c'è il quadro girato e per preservare la batteria di spegnere il quadro ovviamente dice radio tutto touch screen molto interessante comunque poi ve lo spiegheremo meglio quando sarete qui da noi essere qui sul posto di comando di questo veicolo bisogna ammettere che da sensi di viaggi lunghi viaggi adesso andiamo a vedere cosa c'è sotto il cofano motore quest'ottimo crdi 115 cavalli il nuovo 1.6 turbodiesel ovviamente prima di consegnarvela verrà sempre controllata la vettura perché un modello del genere è sempre in garanzia per un anno minimo ma questa qui essendo kia sapete che ha i suoi ormai storici sette anni di garanzia kia a scaglioni ovviamente perché alcuni saltano dopo tot chilometri come anni ma sempre certificato kia rimangono diesel 1.6 turbodiesel è un'occasione perché assolutamente per noi la consideriamo un'ottima occasione ricordiamo che anche questa vettura segue il progetto smile fin con lo 0 per cento di anticipo perciò uno con piccole rate mensili senza maxi rata in futuro può tranquillamente entrare in possesso e sul car le nostre strade comunque riepilogando questa kia sportage allestimento business class due ruote motrici è un 1.6 turbodiesel da 115 cavalli unico proprietario con la garanzia ancora ufficiale kia motor italia vi aspettiamo contattateci prima di venire a visionarla e provarla così sarete certi che se ancora disponibile qui nella nostra sede di secuniago grazie e vi aspettiamo